per la rubrica il bianco e il nero abbiamo interpellato giovanni orsina e gianfranco pasquino sui primi 100 giorni del governo draghi il governo draghi ha da poco tagliato i primi 100 giorni di vita un traguardo importante per un esecutivo che si appresta ad affrontare parecchie insidie per la rubrica il bianco e il nero ne abbiamo parlato con giovanni orsina direttore della louis school of government e con gianfranco pasquino professore emerito di scienza politica e autore del libro libertà inutile profilo ideologico dell'italia repubblicana orsina positivo perché il governo draghi aveva principalmente la missione di vaccinare e la compiuta un mese fa si è preso un rischio calcolato con le riaperture ha avuto successo poi ha rispettato la scadenza per la presentazione del pnrr e anche se c'è ancora molto da fare è un pnrr decisamente migliorato rispetto alla bozza che aveva ereditato da conte pasquino promosso draghi aveva due problemi come affrontare la pandemia e le vaccinazioni e poi come chiudere il piano di ripresa e resilienza da mandare alla commissione europea per quanto riguarda la pandemia ha fatto molti passi avanti importanti non è finita però e personalmente credo che non finirà mai però siamo sulla strada giusta per quel che riguarda il pnrr il governo ha mandato i documenti e ora dobbiamo aspettare la risposta della commissione europea in entrambi i casi secondo me ha avuto un buon successo e quindi secondo me è da promuovere ora ha altri problemi tra cui riuscire a semplificare il funzionamento del sistema e della burocrazia